Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi ho pensato ad andare a fare insieme quelli che sono dei muffin per una colazione perfetta e andiamo ad utilizzare l'amaretto e ovviamente dei muffin senza burro. Quindi molto semplici anche questi da fare ovviamente in poco tempo. Iniziamo subito con, sbattiamo quindi due uova, aggiungiamo quindi poi lo zucchero e andiamo a mischiare per bene tutti gli ingredienti, ovviamente con la frusta quindi è molto semplice da fare, mi raccomando, fatelo e fatemi sapere nei commenti come vi sono venuti. Aggiungiamo quindi il latte e amalgamiamo tutto per bene, sono super curiosa quindi vi aspetto nei commenti, vi raccomando. Aggiungiamo quello che è l'olio di semi e andiamo a mischiare per bene. Dopodiché procediamo con quelle che sono le farine, in questo caso è farina 00 e lievito, le ho divisi in due perché preferisco amalgamarli in due parti diciamo, in modo che non si creino proprio dei grumi e non abbiamo problemi appunto perché poi mangiare comunque un impasto di qualunque cosa con dentro il grumi è un po' fastidioso, quindi ho preferito dividere, ma fate come volete, come vi trovate bene voi. Aggiungiamo anche il lievito e amalgamiamo per bene e infine aggiungiamo quelli che sono gli amaretti sbriciolati imbevuti nel liquore amaretto. Se non volete fare questi muffin diciamo alcolici, li potete fare analcolici utilizzando semplicemente del latte, ok? Molto semplicemente e verranno gustosi lo stesso, ve lo garantisco. Procediamo quindi con la paletta, insomma quello che vi trovate bene, ok? Io volevo togliere tutta la farina dai bordi della ciotola e quindi ho preferito fare così e poi sono tornata ad amalgamare con la frusta perché comunque si erano create ancora dei grumi e li ho voluti togliere così. Aggiungiamo quindi gli amaretti imbevuti e risulteranno un po' secchi, infatti per quello secondo me è perfetto per la colazione. Se invece li volete fare diciamo per la merenda secondo me potreste mettere solo quelli imbevuti e non questi qua diciamo secchi ecco, perché ho voluto aggiungere anche questi perché secondo me ci stavano bene e comunque sempre ad occhio ho fatto circa una decina di amaretti di cui 4 mi sembra secchi e gli altri imbevuti con l'amaretto e poi ho aggiunto anche delle gocce di cioccolato perché secondo me ci stavano bene. Mischiamo e ci trasferiamo sui pirottini. Andiamo semplicemente a prendere un cucchiaio diciamo quindi che va a ricoprire circa un terzo dei nostri pirottini ed infine andiamo quindi a infornare 180 gradi per 20 minuti massimo e il gioco è fatto. E voilà, ecco il risultato. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando iscrivetevi sul mio canale, modetevi sempre aggiornati su tutti i video, guardate quanto sono morbidi e sono profumati, pazzesco. Se provate a farli fatemi sapere nei commenti come vi sono venuti se vi è piaciuto. Io questi qua li porto direttamente al lavoro perché sono sicura che li mangeranno tutti domani mattina. E niente, ciao a tutti!